Benvenuti a Motar Rouge! Benvenuti alla prima puntata di Motar Rouge! La buonanotte piccante di Streamradio! Io sono Marianna, questo è con le mani, ovviamente solo sulla tv. Aspetta il giro eh! Si sdraia, però con il busto un po', cioè tipo così, busto un po' così no? Benvenuti a... Aspetta, e qui tipo c'è l'esercivo? Benvenuti sulla tv, sono qui in compagnia di Mirko Mazzini, ciao Mirko! Ma porco due, ma vaffanculo! Allora iniziamo subito con questa nuova puntata qui su ElectroTV, sigla! Ciao a tutti! A causa dei costissimi... dei costissimi... Boh dai che che... Fanculo, dove faccio? Ti piace quando dico fanculo? Eh sì, per fare dietro sto cazzo! Non possiamo assolutamente fare a meno! Merda, mi sono incartata! Ah giusto, e mancava il tocco finale eh! Siamo arrivati anche questa volta proprio alla fine e vi salutiamo in maniera più calda possibile, noi ce la mettiamo tutta a tenervi in compagnia e speriamo insomma di avervi tenuto in compagnia in maniera abbastanza abbastanza... E cosa ridi? Perché... La porto via, la porto via, lo giuro! Ciao! 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 Alla prossima edizione!